Al comunale di Montecastello di Vibbio, per il recupero della giocottesima giornale al girone B di promozione Umbra, sotto la direzione del signor Andrea Rosignoli di Perugia e dei suoi assistenti Francesco Finori e Diego Bellucci di Cubbio, scendono in campo Montecastello, Vibbio e Terni Est. Gli ospiti si portano subito in avanti con diandacche al sesso, mette la palla in aria, dove Donati in acrobazia manda alto sopra la traversa. Ospiti ancora pericolosi all'ottavo, quando da fuori aria sfiorano il palo alla sinistra dei rosati. Gentile Schia al diciassettesimo pesca in aria Tozzi Borsoi, che di testa infila la palla in rete per l'1-0 del Terni Est sul Monte Castello Vibbio. Rosati al diciannoessimo, dopo aver lasciato sul posto Elabidi e Bellini, infila la palla in rete per il 2-0 degli ospiti sui padroni di casa. Marrano al ventitreesimo è bravo a respingere sulla linea il tiro di diandà. Donati al ventiquattresimo, di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, infila la palla in rete per il 3-0 del Terni Est sul Monte Castello Vibbio. Se è cassa al ventisettesimo, vede Tozzi Borsoi libero in aria sul filo del fuorigioco, che infila la palla in rete per il 4-0 degli ospiti sui padroni di casa. Il Monte Castello Vibbio si rende pericoloso al trentesimo con A0, il quale, lanciato dalle retrovie, si invuole in aria, ma Bragai riesce a parare in due tempi. A ritorno in campo dopo la pausa, il Terni Est si porta subito in attacco, mandando al sesto la palla sul fondo non troppo distante dal palo. Antonelli, al ventesimo, vede dalla tre quarti di campo rosati fuori dall'aria piccola, sfiorando il palo alla sinistra dell'estremo difensore di casa. Antonelli, al venticinquesimo, vede ancora rosati fuori dall'aria piccola, infilando la palla sotto l'incrocio dei pali per il 5-0 del Terni Est sul Monte Castello Vibbio. Padroni di casa provano a rendersi pericolosi, prima al trentaduesimo con Alabiti, che di testa colpisce male la palla che arriva senza problemi a Bragai, e a seguire al quarantesimo con il tiro da fuori aria di Perugini, con Bragai che para in due tempi. Miglietta, al quarantaquattresimo, serve in aria Massarelli, che con la complicità del palo infila la palla in rete per il 6-0 finale del Terni Est sul Monte Castello Vibbio.